Abbiamo fatto questo per avere una certezza su quella che sarà la data delle elezioni. Un ricorso volto a scongiurare ulteriori proroghe di commissariamento. E' questo il fine del provvedimento presentato al Tar del Lazio dal coordinatore cittadino di Forza Italia Giovanni Macri. Al centro della scelta la presunta illegittimità del prolungamento di commissariamento del Comune decretato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 marzo scorso. La proroga in questione è arrivata un mese dopo il termine dei 18 mesi di commissariamento, divenendo così passibile di un ricorso che, qualora venisse vinto, porterebbe a sicure elezioni tra ottobre e dicembre prossimi. Per Macri i motivi dell'appello avrebbero anche connotazioni che valicano le questioni giuridiche. Amo in modo profondo, viscerale direi, la mia città e che oggi vedo in uno stato comatoso e da cittadino, titolo obbligo, il dovere morale di fare qualcosa. L'attenzione del coordinatore si è rivolta in chiusura allo stesso articolo 143 del TUEL, quello che regola lo scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiosi. Ritengo che sia doveroso per i parlamentari, soprattutto meridionali, visto che il problema è maggiormente sentito al sud, una riflessione è intervenire su questa norma che ha profili squisitamente inquisitori. Alessandro Stella per la CNews 24